Buoni architetti che ci sono, quindi abbastanza consistenti, sono gravi al solitore, verso l'integrazione, sento ridici un po' di questa tipologia, quindi si sente anche quel cabernet, che è più sottile, certo? Sì, stai andando con il resto? Devo dire che mi è piaciuto più al gusto che all'olfatto, è proprio di prima sensazione, di prima sensazione all'olfatto un pochino, ero un po' di tubano, si fa che mi sentirebbe un po', perché conosco il tuo santunesimo, la tua settezza di morte, che lo sapevo, e il paticio rimane buono, si sta in bocca, insomma, non ha questi tipi o queste cose che un pochino sfondano, abbastanza morbido, e proprio, ecco, ripeto, giusto un po' l'olfatto, e poi, poco...